Anticipazioni Bittersweet, trama puntate, martedì 16 luglio 2019 Ferit una mattina attende che Najli arriva al lavoro, come sempre, ma la ragazza non si fa viva. Conoscendo la sua puntualità, la slam preoccupato la contatta e le risponde che purtroppo è in ritardo per via del traffico che ha trovato per strada. La verità è che Najli sta cercando da diverso tempo di arrivare tardi al lavoro per non incontrare il suo titolare. L'architetto si allontana da casa sua e in quel momento Najli sbuca da dietro il muretto e si reca immediatamente in cucina. Lì la ragazza scoppia in lacrime, Ferit compare e se ne accorge e la chef per motivare le sue lacrime, mostra un biglietto all'Aslan che aveva appena finito di scrivere. In quel biglietto c'è la sua lettera di dimissioni. Ferit non fa in tempo a dire nulla perché Najli se ne va piangendo. L'architetto non ha il tempo di accettare o meno le dimissioni, di conseguenza il lavoro di Najli, a casa sua, si conclude così.